Buongiorno, anzi buonasera a tutti e a tutti. Grazie moltissimo di questo invito. Sono veramente molto contento di essere qui perché credo che ci sia la necessità assoluta di uno spazio come questo. Uno spazio che mette in discussione una delle materie più difficili che il più delle volte viene presentata come il pilastro di questa società del neoliberismo cioè l'economia e quindi noi entriamo con due piedi sul terreno dell'avversario ed entriamo parlando della pandemia. 20 minuti non sono tantissimi quindi io cercherò di semplificare alcune cose magari salto qualche passaggio poi lo possiamo riprendere insieme. Prima questione stiamo parlando di una tragedia che ha numeri impressionanti anche nel nostro paese. Io vengo dalla Lombardia. Se la Lombardia come voleva Bossi fosse diventata una nazione indipendente oggi sarebbe al secondo posto dopo il Perù per numero di morti per covid su il numero degli abitanti. Siamo a oltre 300 decessi covid ogni 100.000 abitanti. Un numero impressionante. E l'Italia è nei primi 10 paesi come numero assoluto di morti per covid. Guardate che le nostre televisioni e i media continuano a parlare hanno parlato per settimane dell'India. L'India ha una popolazione 23 volte superiore all'Italia. Ha un numero di decessi tre volte superiore all'Italia. Ammettiamo pure che tantissimi decessi non sono stati considerati come morte per covid ma non ha 23 volte i decessi italiani. Allora come mai una delle economie più forti, uno dei paesi più industrializzati del mondo ha pagato un tributo così forte e unico e sta pagando e sta pagando perché non se ne parla più ma siamo sopra i 50 morti al giorno ancora a questa pandemia. Io credo per essere sintetico che siamo di fronte a un combinato disposto tra l'azione del virus e l'azione, l'insipienza, l'ignoranza, la non-azione di chi ha delle responsabilità nella gestione della salute pubblica in tanti posti a livello locale e anche a livello nazionale. Altrimenti questi numeri non si spiegherebbero. Ma prima di parlare della situazione italiana vorrei velocemente riprendere alcune delle cose che hai detto tu. Guardate che di fronte a quello che è accaduto all'arrivo della pandemia non c'è assolutamente nulla di nuovo. Certo non potevamo sapere quando sarebbe arrivata la pandemia, non potevamo sapere sotto che forme, con quali modalità e da dove. Ma che il mondo stesse correndo verso il precipizio è in questa direzione. Noi l'avevamo detto vent'anni fa a Genova, noi l'avevamo detto vent'anni fa al Fono Sociale Mondiale di Porta Alegre. È impressionante andarsi a rileggere i verbali, ascoltare le registrazioni dell'Assemblea del 16 luglio, pomeriggio, quella di apertura del Fono Sociale Mondiale di Genova, perché Genova non è stato solo il 20 e 21 luglio, la repressione e tutte quelle cose incredibili che sono successe. È stato un forum con delle proposte, un forum fortemente propositivo, prima ancora che contestativo. E intervenendo in quel forum Susan George, economista, presidente di Attacca Francia, allora disse una cosa molto semplice. Se la finanza speculativa continuerà a dominare l'economia reale, l'Europa andrà incontro a una crisi economico-sociale nei prossimi anni senza precedenti. Ed è quello che è avvenuto poi dal 2007 al 2009, con il prezzo che ha pagato l'Europa, che ancora non è riuscita a uscirne poi completamente. E subito dopo intervenne Valdemmelo, sociologo, leader di uno dei movimenti più importanti delle Filippine, e diceva se andrà avanti questo modello di sviluppo e di sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta, avremo delle crisi climatiche che sfoceranno poi nella scomparsa di alcune terre sotto l'innalzamento del mare e alcune popolazioni saranno obbligate addirittura a emigrare. Tre anni sono bastati per arrivare alla fine del 2004 allo tsunami e tutto quello che ne conseguete lo stiamo vedendo, quello che è accaduto in Canada, quello che è avvenuto in Germania, non possiamo dimenticarci di mettere tra parentesi. E la pandemia è il risultato di questo modello di sviluppo, di alcuni aspetti precisi, perché attraverso una disafforestazione massiva, attraverso gli allevamenti intensivi, si abbattono le barriere tra le specie e si favorisce la zoonose, cioè il salto di specie di un agente infettivo dagli animali agli esseri umani che poi lo portano in giro dappertutto. È una delle conseguenze di un sistema energivoro che sfrutta ogni centimetro quadrato del pianeta. D'altra parte ci sono libri, documenti che lo spiegano molto bene, pensate solo a Spielover di Quimann che cosa dice? Dice che negli ultimi vent'anni, tra le altre cose, c'è stato un succedersi di pandemie e i tempi di distanziamento dall'una all'altra sono sempre più diminuiti. Quindi quando oggi discutiamo di questo, guardate che non stiamo solo discutendo di cosa fare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, dobbiamo sapere che questa fase della storia umana sarà segnata anche da altre pandemie fino a quando noi non cambieremo in profondità il modello di sviluppo. Deve essere chiaro che questo è il contesto dentro il quale arriviamo a discutere. Ed è un contesto che non è stato compreso per nulla da parte di chi ci governa a livello nazionale, a livello europeo e a livello globale. Perché andate a vedere come vengono utilizzati, poi c'è Monica che su questa è espertissima, i fondi che arrivano dall'Europa. Andate a guardare, si parla di grandi opere, si parla di nuovi attacchi all'ambiente. Quindi si va avanti in quella direzione. Infatti nessuno di noi dice vogliamo tornare come prima, vogliamo riacquistare e ampliare delle libertà e dei diritti, ma non tornando a quel modello di sviluppo fondato ad esempio totalmente sulla velocità e sul consumo di tutto quello che è possibile. Mentre i cosiddetti piani di ricostruzione e di rilancio vanno purtroppo in quella direzione. Torniamo all'Italia. Che cosa è avvenuto in Lombardia e che cosa sta avvenendo in Italia? Perché la Lombardia ci serve per capire quello che può avvenire a livello nazionale. Noi abbiamo un sistema sanitario che viene presentato come un sistema sanitario d'eccellenza. Come mai si è fatto prendere così di sorpresa da questa pandemia? Primo, è un servizio sanitario in Lombardia dove il 40% dei fondi pubblici sono destinati al privato. E il privato, non solo in Lombardia, da tutte le parti, quando interviene in sanità, seguitemi bene su questo passaggio che è elementare, ma viene ignorato totalmente. Un servizio sanitario privato, una struttura privata, che finanzia il privato in sanità, a che cosa punta? Di cosa ha bisogno per fare soldi? Malati e malattie. E di cosa non ha bisogno? Di prevenzione e che la gente stia bene, perché altrimenti non guadagna. E quindi per il privato la prevenzione non ha nessun senso, ma diciamo addirittura che per il privato la prevenzione è un antagonista, è un concorrente. E il problema diventa drammatico quando a gestire la sanità pubblica abbiamo politici che la gestiscono con i criteri e gli obiettivi e il personale che gestirebbe la sanità privata. Secondo quelle logiche che è assurdo, perché il servizio sanitario nazionale pubblico ha esattamente un obiettivo opposto, tenere la gente in salute, cercare che si ammali il meno possibile, perché così anche da un punto di vista economico risparmiamo, risparmia lo Stato e risparmiamo tutti noi. Ma se tu hai un servizio pubblico dove hai azzerato praticamente i servizi di prevenzione, hai lasciato solo sulla carta i servizi di medicina preventiva del lavoro, hai azzerato completamente i piani pandemici, non sai che cosa significa in italiana epidemiologia. Possibile che non sia venuto in mente di andare a individuare un campione stratificato simile alla regione, alla città metropolitana, alla provincia di cui si discute e vedere lì come si muoveva il virus, quale popolazione colpiva, quali erano le persone dentro cui questa malattia volveva più velocemente, che tipo di patologie avevano eccetera, per poi capire e poter fare un discorso più ampio. Ignorato tutto quanto. Faccio un esempio, si adatta male a Trento perché siamo in montagna, non siamo al mare, ma questo non mi è venuto un altro esempio. Pensate di essere su una spiaggia, guardate l'orizzonte, davanti avete un'onda che cresce, che cresce, sta per arrivare, per abbattersi sulla spiaggia. Sulla spiaggia ci sono i bambini che hanno costruito i castelli, gli adulti che prendono sole, gli ombrelloni, c'è paura, quell'onda rischia di travolgere tutto, c'è bisogno di un frangiflusso che rompa la potenza dell'onda in modo tale che quando arriva sulla spiaggia abbia una potenza molto minore. E voi siete lì a guardare quel frangiflusso e vi rendete conto che quel frangiflusso che prima aveva era tre, quattro metri d'altezza, è stato ridotto, mezzo metro. E poi ti giri e vede che quello di fianco a te c'ha in mano un piccone e sta dando colpi per abbattere quel frangiflusso. Dici ma cos'è, impazzito. E l'onda scavalca il frangiflusso e investe la spiaggia con tutta la potenza che ha. Distruzione totale. C'è bisogno delle ambulanze, ma le strade non sono state liberate, c'è traffico. Di cosa sto parlando? La spiaggia è il sistema ospedaliero, il frangiflusso è la sanità territoriale. Se hai azzerato la sanità territoriale, e il piccone era quello che stavano facendo in Lombardia ma non solo, il nostro assessore alla sanità, quello di prima, la Moratti adesso e via dicendo. Se hai abbattuto la sanità territoriale, se la prevenzione è l'ancella che non conta assolutamente nulla e che prende il 3% del finanziamento complessivo sulla sanità, l'onda travolge il sistema ospedaliero. Non c'è il sistema ospedaliero al mondo che da solo possa reggere a una pandemia, ma è quello che produce profitti ed è quello che è avvenuto. Allora noi se dobbiamo guardare il futuro dobbiamo pensare a un servizio sanitario universale sostenuto dalla fiscalità generale in termini proporzionali con l'accesso per tutti, quindi senza i ticket e che investa moltissimo sulla medicina territoriale preventiva. E invece sono andata a vedere come verranno distribuiti la prima transce di soldi europea che è già arrivata, a parte destinata alla sanità che è pochissima, è per l'acquisto di nuove tecnologie e la costruzione di nuovi hub ospedalieri. Non è questa la priorità in una situazione pandemica. Tutto questo però ha costruito anche delle enormi differenze sociali. È giusto, è fatto bene a parlare di sindemia, e cioè c'è un virus, c'è una gestione politica, ma c'è una condizione di povertà che ai miei studenti la chiamo i determinanti sociali che pesano nella sanità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il virus non guarda in faccia chi colpisce. Però becca a te che stai in una casa di 170 metri quadrati con quattro persone e becca a te che stai in una casa di 40 metri quadrati con quattro persone, è molto più facile che tu infetti gli altri che vivono insieme con te. Se tu vai a lavorare tutte le mattine e devi prendere un mezzo pubblico perché non hai la macchina, so bene che la macchina non va bene ma nella fase del lockdown, sto facendo l'esempio, tu rischi di infettarti molto di più di lui che può lavorare a casa, sul computer, senza dover uscire di casa e via dicendo. E se tu hai avuto un sistema alimentare disastroso perché avevi i soldi che avevi, se hai sviluppato il diabete, se hai sviluppato ipertensione, se hai sviluppato patologie croniche, è molto più facile che in te il virus possa portare un'evoluzione della malattia nella fase conclamata e poi arrivare a ricovero piuttosto che in lui. E questi sono dati di fatto, documentati, queste statistiche non vengono pubblicate, ma è il ruolo dei determinanti sociali in sanità. E sto parlando di quelli più semplici, dopodiché è evidente che lui c'è il portafoglio per cui se c'hai le liste d'attesa può pagare il privato ad andare e tu no. Ma lì siamo già oltre, siamo già nella sanità di tutti i giorni. Io sto parlando della pandemia e questa ingiustizia sociale la stiamo misurando a livello impressionante, a livello mondiale. Grida vendetta quello che sta accadendo. Quello che ha fatto il G20, che ha confermato il G20 l'altro giorno, io lo sintetizzo con le parole di Luigi, di Don Luigi Ciotti. La guerra, ha detto, non si dichiara solo con le armi. Le decisioni che hanno preso di non appoggiare la proposta avanzata da India e Sudafrica, appoggiata da cento paesi e sostenuta dai movimenti di tutto il mondo, della società civile, di una moratoria di tre anni sui vaccini, sui farmaci, sulla diagnostica e sul know-how dei vaccini, equivale a una condanna a morte di milioni di persone nel sud del mondo. In Africa siamo appena sopra il 2% della popolazione vaccinata, il 2%. Dieci paesi. Vorrei che ci ascoltasse il nostro ministro Speranza, quello che viene presentato come l'ala sinistra del governo, che ci ascolti. Altro che tante dichiarazioni, felicitazioni per le dichiarazioni approvate. Dieci paesi tra cui noi, tra cui l'Italia, abbiamo acquistato 75% dei vaccini prodotti e poi si parla di donazioni. E ancora Luigi che interviene e dice in modo chiaro, è detto da un prete ancora più importante quando dice le leimosine e la carità non possono mai sostituire i diritti, mai. Possono svolgere un ruolo importante e complementare i diritti. La sospensione dei brevetti sui vaccini è fondamentale, è un atto di giustizia. Ma, e qui uso le parole di Garatini, che come Luigi e come lo era Gino Strada, sono alcuni testimoni della campagna europea che stiamo facendo, Garatini cosa dice? Se non lo volete fare nel nome della giustizia, fatelo per sano egoismo. È inutile che qui si continui a parlare di vaccinare tutti, cosa giusta la vaccinazione. Se non abbiamo il coraggio di dire che se non si vaccinano a Belem, se non si vaccinano in Sudafrica, se non si vaccinano in Bangladesh, si svilupperanno delle varianti maggiormente aggressive che a ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio arriveranno qua. E nessuno di noi sa se i vaccini che stiamo utilizzando saranno in grado di fermare quelle varianti. Nessuno di noi. Ma i consigli di amministrazione di quelle aziende di Big Pharma sanno che è una manna questo. Perché permette, su una nuova tecnologia mRNA che devono sperimentare, di vedere quanto ci mettano a modificare il vaccino per renderlo idoneo a contrastare le altre varianti virali. Che è un progetto che oltretutto veniva da prima della pandemia, di vedere come la metodologia mRNA poteva essere aggiornata. E là lo possono sperimentare sul campo. Questo porta a problemi enormi. Adesso ci dicono tutti dovete fare il terzo richiamo. È problematico. Da un punto di vista sanitario ci sono centinaia di punti di domanda. Ma io pongo una domanda banale, semplice. Poi chi vuole può approfondire. Tengo una trasmissione fissa 37.2 Radio Popolare a Milano. C'è il podcast, potete andarla a sentire, quindi anche in internet, anche se non arriva qua. Ma pongo una domanda semplicissima. Ci vaccinano tutti col terzo richiamo nei prossimi mesi. Ma con che richiamo? Col vaccino contro il Delta. E se poi arriva l'Epsilon, K e l'Anda, che cosa facciamo? Il punto non è che tutti vogliamo sradicare la pandemia, ma c'è qualcuno che su questa pandemia fa soldi. No, è peggio. Non tutti vogliamo sradicare la pandemia. Big Pharma la vuole rendere endemica. Come documentano anche le frasi dette a un incontro riservato che poi però sono state rese pubbliche tra i boss e i dirigenti di Pfizer e i fondi finanziari che finanziano queste aziende farmaceutiche che hanno detto nel momento in cui l'OMS la dichiarerà pandemia. Noi potremo moltiplicare, non aumentare, moltiplicare i costi dei vaccini e poi ogni anno produrremo un vaccino diverso. Allora, la questione dei brevetti è fondamentale per tutto il mondo ed è fondamentale anche per noi. Per questo in Europa abbiamo lanciato un'iniziativa dei cittadini europei, uno strumento istituzionale che se arriviamo a un milione di firme raccolte, l'abbiamo presentata in nove all'Unione Europea di nove paesi diversi, sono responsabili per la campagna per l'Italia, se presentiamo un milione di firme la Commissione Europea ha l'obbligo di organizzare in Parlamento Europeo una nostra audizione, dopodiché Parlamento, Consiglio e Commissione devono discutere la nostra proposta e devono pronunciarsi su questa. E noi cosa proponiamo? Che l'Unione Europea che è il difensore massimo di Bif Pharma insieme alla Svizzera e al Giappone, perché l'altro ieri l'Australia finalmente ha cambiato posizione grazie alla spinta dei movimenti per i diritti umani e si è dichiarata a favore della moratoria, noi chiediamo che l'Unione Europea con questo milione di firme che si voti, che decida, che appoggi la proposta di moratoria. Secondo, che siano desecretati gli accordi firmati a nome nostro tra la Commissione Europea e Bif Pharma, accordi contrattuali dove sono stati utilizzati i nostri soldi. Ma sapete che è uno degli punti che c'è in quegli accordi che noi sappiamo grazie al fatto che è stato reso pubblico per errore in Argentina e in Brasile, ed è così in tutti i contratti, è che se ci saranno delle cause di risarcimento per quello che comporta l'uso dei vaccini, le aziende non dovranno pagare nulla, saranno i nostri governi a dover pagare. E sapete che in Argentina, siccome hanno paura del default, cosa ha chiesto la Pfizer? La Pfizer ha chiesto che fosse addirittura impegnata la banca centrale eventualmente a pagare come garanzia. E addirittura hanno chiesto in America Latina che gli stati mettano come garanzia delle infrastrutture pubbliche. Si parla di porti e via dicendo. In caso lo Stato non si faccia carico delle cause che le aziende temono. Ma è possibile una cosa del genere. Hanno avuto il via libera, hanno avuto i vaccini che sono stati finanziati da noi. Sapete che il vaccino AstraZeneca, secondo una ricerca di due università, ha ricevuto il 97,2% dei fondi necessari per produrre il vaccino da enti pubblici o da fondazioni. E però poi tutto il guadagno lo prendono loro. Quindi c'è un problema economico, c'è un problema di giustizia, c'è un problema clinico. A questo aggiungo che se noi guardiamo il futuro noi dobbiamo puntare alla costruzione di una azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea. Per tanti motivi. Ne indico tre. Primo, i costi dei farmaci e dei vaccini sarebbero molto molto più bassi. Considerate che secondo Credit Suisse e Bloomberg International le aziende che producono i vaccini solo sul vaccino, non con tutto il resto dei farmaci, avranno dei ricavi di 10 miliardi di dollari all'anno per i prossimi 4-5 anni. Azienda pubblica abbatte i costi. Secondo, azienda pubblica fa le ricerche anche su quelle che vengono chiamate le neglected disease, cioè le malattie dimenticate. Quelle malattie che colpiscono i poveri, da noi o nessuno del mondo e dove le aziende non hanno nessun interesse a investire perché ovviamente non producono profitti. Terzo, perché avremmo vantaggio con un'azienda pubblica. È un concetto un po' più complicato, ma è di un'attualità tremenda. Prova a spiegarlo semplicemente. Perché anche la modalità di condurre la ricerca sarebbe diversa. Faccio un esempio e credo di poterlo dire in assoluta onestà. Sono stato il primo e l'unico medico che la sera, non ricordo se era il 20 o 21 novembre, ma c'è sulle mie pagine Facebook che lo potete trovare, 2020 in una diretta con 50.000 persone, ho detto guardate che i vaccini che stanno preparando e la documentazione che è presentata all'EMA e all'FDA sono stati sperimentati per vedere che efficacia hanno nell'abbattere il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata, quindi a ricovere al decesso. I trial sperimentali erano questi. E due giorni prima o dopo, non ricordo, Conte va in televisione a dire con questi vaccini arriveremo all'immunità di Greggio e si risolve tutto. Ma sai di che cosa stai parlando? Non sto dicendo che non sono importanti, sono importantissimi. Ma devi dire la verità. Perché se dici che sono vaccini che sono stati sperimentati nei trial presentati all'EMA per bloccare la trasmissione del virus, la prima volta, come è accaduto, che un'infermiera, non ricordo se era in Sicilio o in Puglia, al primo caso, vaccinata due volte, si è infettata, tutti e loro i Novavax dicono avete visto che i vaccini non servono assolutamente nulla. Devi dire la verità alla gente, devi trattare il paese da persone adulte che sanno ragionare. Solo dopo che sono state messe nel mercato, sono state partite le ricerche, sono partite le ricerche per vedere in che percentuale questi vaccini sono in grado di bloccare la trasmissione del virus. E si è visto che riescono a bloccarla in una percentuale molto minore del bloccare invece l'evoluzione verso la malattia. E quindi, da qui il discorso che un vaccinato deve comunque tenere alle distanze la mascherina perché può infettarsi, è difficile che evolva lui, ma può trasmettere il virus. Una struttura di sanità pubblica, un istituto di ricerca, avrebbe messo quello come end point immediato, c'è uno dei punti prima da verificare nella sperimentazione e invece lì la fretta di arrivare a andare sul mercato con la percentuale di successo più alta senza spiegarlo. E loro hanno scritto, perché si sono salvati così, 94% nel bloccare l'evoluzione verso la malattia. Io so cosa vuol dire in termini tecnici, l'evoluzione verso la malattia è quella sintomatica. Tutti i giornali, compresi quelli che lo sapevano, che dipendono però da Big Pharma, hanno fatto l'equivalenza 94% nel bloccare la trasmissione. Questa è una modalità con cui stanno andando avanti le cose. tre minuti. E c'è un altro aspetto che vorrei toccare, no? Tre minuti, quindi finisco, giusto? Ah no, c'era prima il foglietto. Vabbè, finisco subito. No, no, ma Vittorio vai tranquillo, intanto è interessante. No, perché qui, cioè siccome sto parlando in un ambito di compagni, di sinistra e di amici, non ho timore di essere frainteso sulle parole e quindi posso essere molto chiaro. Guardate, che è brutto quello che sta accadendo. È brutto. Si sta spaccando la base sociale della sinistra, quella che dovrebbe essere della sinistra, ma comunque della povera gente. Uno contro l'altro, perché la discussione diventa il Green Pass in un modo o nell'altro, e via dicendo. E si usano toni di scontro che sono inaccettabili, inaccettabili. Quando lengo un editoriale su un giornale abbastanza diffuso che dice che tu, Innovax, devi togliere i diritti di cittadinanza. Quando sento un assessore del PD, quando ho avuto la notizia non sapevo di che partito ero, pensavo fosse dall'est, del PD, che dice che i Innovax dovrebbero pagarsi le cure. Ma stiamo dando i numeri. E io lo posso dire in assoluta tranquillità, sono quello che coordino una campagna per i vaccini a tutti, quindi nessuno certo può dire che sono Innovax. Ma non accetto che si usi la pandemia per distruggere il diritto universale alla salute. Perché se andiamo avanti così, se andiamo avanti così, ci diranno che i tumori del polmone dovuti al fumo uno se li deve pagare le cure, ci diranno che gli alcolisti se li devono pagare, ce li diranno che i tossicodipendenti se li devono pagare, ci diranno che quello che non mette la cintura in macchina non viene assistito se non paga. Andiamo nel sistema americano da cui Obama, con tutti i limiti che ha avuto, ha cercato in qualche modo di venire fuori. Perfino Hillary Clinton ci aveva provato, che non è certo un antiliberista a cercare di migliorarlo. E ci vogliono portare lì. La cura è per tutti. Non dipende dall'analisi dei comportamenti individuali. E quando vedo che a dire queste cose sono gli stessi mezzi di comunicazione, e gli stessi politici che dieci giorni prima hanno decantato le lodi di Gino, di Gino Rada, sono delle lingue biforcute, perché Gino curava tutti, tutti che fossero talebani. Non facciamo usare in questo modo la pandemia. Ci fanno guardare la punta dei piedi. Alziamo lo sguardo invece e capiamo che la partita si fa lì, si fa sui brevetti, si fa sui vaccini per tutti e si fa con la scienza. Quando oggi, senza oggi, concetto difficile questo, senza che sia avvenuto nulla ieri, diversi media di colpo scrivono che è necessario vaccinare anche i bambini dai cinque anni in su, per fortuna dicono ai cinque anni, perché un certo pediatra famoso ha detto dai sei mesi in su, mi vengono i brividi, ma con quale logica di sanità pubblica? Se i bambini si infettano più difficilmente, se la fanno, la fanno in forma assolutamente lievissima. Se vivono in un contesto di persone vaccinate, anche se la trasmettono, anche chi è vaccinato ne vuole. Allora il problema è recuperare quei milioni di persone, per esempio sopra i cinquant'anni, che non sono vaccinati. Ma non dire che devi usare un vaccino per dei bambini, quando non hai nessun trial serio e documentato che ti dice che non ha degli effetti, ma è una pressione delle aziende farmaceutiche micidiali. E quando l'OMS ti ha appena detto prima di vaccinare con la terza dose di adulti, l'OMS manca preso in considerazione che qualcuno volesse vaccinare i bambini sotto i dodici anni, ti dice prima della terza dose per gli adulti nel mondo occidentale, pensata su del mondo e spiegava le cose che ho detto prima. Dobbiamo ragionare fuori dalle pressioni di Big Pharma su tutti i nostri governi. Deve essere chiaro questo. È brutto, ma è un esercizio che ho deciso che farò fare quest'anno ai miei studenti. Vi faccio fare delle tesi su questo e voglio vedere cosa viene fuori. Quando scopri che alcuni personaggi che vanno in televisione tutti i giorni, o qualche fondazione che tutti i giorni interviene su questa cosa, poi in un modo o nell'altro hanno collaborazioni, hanno fondi con le stesse aziende farmaceutiche che producono i vaccini. E allora lo devono dichiarare come si fa quando pubblichi sulle riviste scientifiche. Io parlo, ma sappiate che prendo soldi da Pfizer, AstraZeneca, Abbott e via dicendo così. Chi ascolta fa uno più uno e fa i suoi ragionamenti. E vorrei saperlo anche adesso con quest'ultima trovata di oggi. Perché quando si parla di vaccini, per esempio terza dose, si deve parlare di un'attenzione al singolo individuo, alla sua situazione, alla sua condizione serologica, eccetera, eccetera, eccetera. E contemporaneamente invece, se ne frego, di migliaia di persone che non sanno più dove sbattere la testa da noi. Più, finisco su questa banalità, quelli che hanno fatto il Covid, hanno una dose, non devono fare la seconda dose. Perché non devono fare la seconda dose? Perché se hanno fatto il Covid sei mesi prima, la prima dose è più che sufficiente e quindi gli dicono sei a posto. Ma siccome non hanno aggiornato la pagina internet del Ministero, non può inserire queste e quindi non hanno il Green Pass perché risulta che hanno fatto una dose sola. È un esempio. Occupatevi di queste cose, dica chi è responsabile, anziché pensare di fare i venditori delle aziende, che sono capacissimi di farle da solo. E quando poi leggo ieri, che il nostro Ministro della Sanità fa una dichiarazione entusiasta, perché finalmente abbiamo donato delle dosi di vaccino al Vietnam e finisce il comunicato dicendo, e l'abbiamo donata al Vietnam, che da un punto di vista strategico e commerciale di mercato per l'Italia è estremamente importante, io ho detto non può, non può dire questa roba qua. Ma non è possibile. Prima dici che non togli i brevetti perché punti sulle donazioni. E poi quando fai una donazione misera la giustifichi nel tuo interesse di mercato. Siamo proprio da un'altra parte. Per fortuna che c'è un festival come questo.